buongiorno stiamo facendo un video dimostrativo sulla telecamera wifi con ripresa di angolazione 80 gradi ed infrarossi la telecamera è molto utile per poterla installare all'esterno di un'abitazione perché impermeabile completamente ottenuta stagna l'applicazione ha diverse funzioni tra cui quella del sensore di movimento che vi permette di essere avvisati nel momento in cui qualcosa transita davanti la telecamera perciò un qualsiasi movimento di pixel avrà attivare adesso faremo una dimostrazione al volo attiveremo il sensore e come vedrete l'applicazione inizierà a suonare adesso l'operatore come l'ha visto mi sono appena mosso come ho cliccato sul tasto verde la telecamera mi ha aperto l'immagine adesso io ripasso davanti come vedete ogni volta che c'è un movimento la telecamera ci avviserà tramite l'applicazione adesso il collaboratore passa davanti come vedete naturalmente questa funzione la possiamo disattivare eventualmente ultima prova un secondo facciamo l'ultima prova passiamo la mano davanti ok adesso la disattiviamo un attimo in questo caso adesso come vedete il sensore di movimento non si attiva più la qualità è ottima una dimensione della telecamera è minima questa telecamera può essere usata sia con wifi che direttamente tramite connettore della rete lan perciò via cavo è in vendita presso il nostro punto vendita qui a roma o tramite il nostro sito internet che è www.spiare.com grazie a tutti